Anche a Teggiano il socialismo torna ad essere protagonista ed avviare azioni di coinvolgimento e di ascolto del territorio. Per fare ciò i referenti del gruppo politico locale hanno deciso di dare vita ad un centro zonale del Partito Socialista Italiano che sarà un punto di riferimento per il comprensorio valdianese. Domani, sabato 7 ottobre, in località San Marco di Teggiano si terrà una giornata di riflessione sul ruolo del Partito Socialista e sugli obiettivi che si prefigge per il futuro. Un evento che mira a riavvicinare alla politica e all'impegno di rilancio del Partito. Alle ore 17.30 in piazza San Marco, dell'omonima località di Teggiano, sarà presentato al pubblico il centro zona del Partito Socialista Italiano, un evento a cui prenderà parte anche il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, che è nato a Polla e cresciuto a Salerno dopo l'elezione alla guida del Partito nel corso della due giorni degli stati generali del Partito Socialista, ha ribadito l'obiettivo di rilanciare i valori del partito, cercando di rimettere insieme le varie anime che nel corso del tempo, pur restando fedeli agli ideali socialisti, si sono ritrovati a percorrere cammini diversi. Per il segretario nazionale Maraio, dunque, si deve ricostruire un percorso comune, capace di creare un partito con solide fondamenta per ripartire verso il futuro. Un percorso che, grazie al gruppo valdianese dei socialisti, coinvolgerà anche il Vallo di Diano con l'apertura di un punto d'incontro a San Marco di Teggiano, dove domani, 7 ottobre, arriverà il segretario nazionale Enzo Maraio e il segretario provinciale Silvano del Duca, per la presentazione del centro di zona e l'inaugurazione della sede, che sarà punto di riferimento per l'organizzazione delle iniziative del centro zonale. Si tratta, spiegano dal gruppo, di un soggetto politico a disposizione di tutti i socialisti e simpatizzanti del Vallo di Diano, di supporto alle forze politiche e alla società civile. L'obiettivo è quello di tradurre le grandi battaglie di progresso sociale che il Vallo di Diano ha vissuto, grazie alla radicata presenza del PSI, in azioni attuali che gli amministratori, gli iscritti e i simpatizzanti del partito metteranno in campo per aprirsi all'ascolto del territorio, richiamando a raccolta tutte le anime socialisti in un grande progetto di rilancio del PSI, così come tracciato dal segretario nazionale Enzo Maraio con gli stati generali del socialismo.